Fabrizio Biasin, noto commentatore sportivo e tifoso dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni e analisi sulla scena calcistica durante un'intervista esclusiva a TV Play. Durante la conversazione, Biasin non ha esitato ad esprimere le sue preferenze e opinioni sui giocatori offensivi che ritiene ideali per far parte del tridente offensivo dei sogni di ogni squadra. Per Biasin il binomio perfetto sarebbe formato dai talentuosi Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lautaro Martinez, relegando Vinicius Junior in una posizione secondaria nelle sue scelte. Ha sostenuto che Martinez offre una combinazione unica di abilità tecnica, intelligenza tattica ed edizione alla maglia, che lo pone al di sopra degli altri giocatori. Ciao interisti, benvenuti nel nostro canale Inter News. Qui portiamo quotidianamente le ultime notizie dalla squadra nerazzurra, quindi vi invito a mettere mi piace al video e ad iscrivervi al canale, così riceverete le ultime notizie qui. Nel giustificare le sue scelte, Biasin ha sottolineato l'importanza di Mbappé e Haaland come due degli attaccanti più temuti e prolifici del calcio odierno. La sua velocità, abilità di rifinitura e capacità di turbare le difese avversarie sarebbero un'aggiunta preziosa per qualsiasi squadra, inclusa l'Inter. Il telecronista ha però lasciato spazio anche a Mauro Icardi nelle sue considerazioni, suggerendo che il prolifico attaccante argentino ha ancora qualità e potenzialità per fare gol, anche se al momento non è la sua prima scelta per il tridente offensivo. Le opinioni di Biasin scateneranno sicuramente un acceso dibattito tra i tifosi dell'Inter. Ognuno con la propria opinione su quali giocatori e formazioni sarebbero ideali per il successo della squadra. Da tifoso dell'Inter, qual è il tuo giudizio sulle scelte di Biasin per l'attacco della squadra? Siete d'accordo con l'inserimento di Lautaro Martinez nel tridente da sogno? O preferisci un approccio diverso? Se l'Inter si ritrovasse con un solo giocatore tra quelli citati, quale vorresti indossare la maglia nerazzurra? Forza Inter sempre!